e per altri ragazzi sono Gilibera che sono qui oggi tornato perché per la prima volta in vita mia investo nel mercato azionario ho iniziato a farlo circa due settimane fa dopo un percorso di studio per rendermi consapevole di quello che facevo vi dico però che non bisogna mai smettere di studiare ho iniziato ad investire perché penso sia il momento migliore per farlo ma continuerò a studiare non mi reputo nemmeno al 20% delle cose che voglio sapere voglio studiare sul mercato azionario quindi sono in costante studio ogni giorno mi informo mi guardo documentari mi guardo serie tv inizierò anche a leggere determinati libri che ne parlano quindi ci tengo a precisare che non sono assolutamente un consulente finanziario quindi tutto quello che dirò in questo video sono opinioni personali di un non professionista quindi non prendete queste parole come verità assolute ovviamente non sarebbero nemmeno quelle di un consulente finanziario verità assolute però sicuramente ha più competenze di me io sono semplicemente un appassionato di economia lavoro in questo settore qua studio economia in università però non sono nessuno sono semplicemente un ragazzo che cerca che ha questa passione quindi prendete tutto ciò che dico con le pinze questo era un piccolo disclaimer ma dovuto perché vi voglio sicuramente rendere consci di quello che vi sto per dire e di chi ve lo sta dicendo io partirei semplicemente da un piccolo quesito gilbe ma tu che tipo di investimento fai? sono secondo me due macro tipologie di investitori in bordo cioè quello a breve termine che secondo me è più trading e quello secondo me a medio lungo termine che secondo me sono più investimenti io essendo che non ho necessità di fare tra le volete soldi nel breve termine ma sto cercando di assicurarmi un po' un reddito costante nel medio lungo sto cercando soprattutto di investire in società che reputo possano crescere in settori che possano crescere e abbiano anche dei dividendi per chi non sapesse cosa siano i dividendi ci tengo a precisare che sono una piccola porzione di utile che le società possono decidere se distribuire agli azionisti o no ci tengo a precisare poi anche che io lo faccio anche e soprattutto per divertimento perché mi piace cimentarmi in cose nuove quindi vi consiglio sempre comunque di fare tutto con cautela non buttatevi senza avere un minimo di conoscenze ma cercate sempre di fare le cose razionalmente io come voi sono un ragazzo che ha questa passione qua e quindi sto provando a fare queste cose qua per divertimento e anche perché vuoi assicurarmi un po' di reddito nel futuro ci tengo anche a precisare che vi farò vedere anche tra pochissimo sul mio computer quali sono i miei investimenti, come si suddividono, come viene il diversificato tutto ma ripeto raga, non ho le competenze per farlo quindi non prendete la mia suddivisione del portafoglio come fosse oro colato se volete avere un minimo di idea cercatevi magari i portafogli di Bill Gates, di Warren Buffett non cercate i portafogli di Cinde perché, cioè, non so, fate voi io suddivido così ma non ho le competenze per farlo quindi prendete tutto ciò che vi dico con le pinze quindi raga, spostiamoci pure sul computer che vi faccio vedere il mio portafoglio ho fatto sia dei grafici su Excel e poi vi farò vedere anche dentro il portale del mio broker così vi faccio vedere entrambe le cose ok raga, come probabilmente sapete tutti io sono un malato e dico malato proprio di Excel ma ne sono consapevole e quindi ho creato tutti i graficini che c'erano anche già sul broker però ho preferito farmi lì qua così quando voglio me lo sono messo anche su Google Drive in modo tale che io posso modificarlo tramite fogli Google su qualsiasi dispositivo, a qualsiasi ora, da qualsiasi parte allora, ci tengo a precisare che adesso farò semplicemente una breve analisi dei vari titoli ma se volete qualche spiegazione e qualche delucidazione su qualche titolo in particolare magari ci faccio un video, un video singolo ad esempio se avete piacere di sapere il perché ho investito su Coca-Cola andiamo ad analizzare il titolo insieme ma lo faccio singolarmente ora vi spiego semplicemente in che campo lavorano là come potete vedere ho già investito 1200 euro nel mercato azionario come potete anche vedere le ho investite praticamente tutte nel mercato azionario americano a parte due o tre titoli perché penso che nel lungo termine sia il più solido e io che voglio fare investimenti a lungo termine ho deciso sicuramente di investire molto di più sul mercato americano allora, partiamo dai singoli titoli allora, il primo titolo che vediamo è American Express che non so se tutti, penso che lo conoscete tutti però non sapete forse in che campo lavora allora, American Express è una società che lavora in più campi e ciò può essere sia un pro sia un contro sicuramente il contro è che è più diversifico e più è difficile controllare i vari settori però American Express è sicuramente a mio avviso in grado di farlo lavora nel settore finanziario perché per chi non lo sapesse fornisce carte di credito e carte di debito ma opera anche nel servizio dei viaggi è una società veramente longeva perché è stata fondata nel 1850 a Buffalo negli Stati Uniti ora ha però sede a New York ed è anche una delle 30 società che compongono il Down Jones Industrial Average la seconda società nella quale ho investito è Coca-Cola che penso non necessiti di spiegazioni infatti non lo faccio vi posso dire semplicemente che è stata fondata nel 1885 quindi anche la Coca-Cola è veramente una società forte e longeva la sua sede principale è ad Atlanta in Georgia e fa parte sia dell'indice Dow Jones e sia dell'indice S&P 500 per quanto riguarda tutti i dividendi vi aprirò un altro foglio Excel in cui vi faccio vedere tutti gli ultimi dividendi e vi faccio vedere anche il dividend yield delle varie aziende ma quello vi faccio vedere dopo nel secondo Excel vi farò vedere la terza società nella quale ho investito è Westrock che è una società è la società per eccellenza in realtà è la seconda società americana di imballaggi fa imballaggi di cartone è relativamente giovane perché Westrock è stata fondata se non ero nel 2015 ma è la fusione tra due altre società che non ricordo nome ma ve lo cerco subito la prima società è Midwest Waco e la seconda è Rocktin Roxanne Roxanne ed ha anch'essa sede ad Atlanta in Georgia la terza società è E.ON che è una società di servizi elettrici ed è uno dei settori che secondo me può avere un ottimo futuro è una società tedesca ha sede a Essen in Germania ed è un componente dell'Eurostoxx50 del DAX e del Dow Jones Global Titan 50 ed è stata fondata nel 2000 quindi è relativamente giovane dopo E.ON ho investito su Huntington Bank Shares che è una delle più grandi banche americane è veramente veramente longeva infatti è stata fondata nel 1866 ed ha sede a Columbus Ohio dopo Huntington ho investito anche su Delta ed American Airlines che sono le due secondo Forbes nel 2015 sono le due più grandi società di aerotrasporti americane ho deciso di puntare su queste due società perché penso che il prezzo di mercato ora fosse nettamente inferiore al loro fair value e quindi ho deciso di investirci sopra sicuramente è un investimento a lungo termine perché io penso che per almeno due o tre anni le società aeree patiranno veramente tanto il colpo che hanno subito dal coronavirus ma penso che possono essere un ottimo investimento a lungo termine un'altra società nella quale ho investito è Qualcomm che è una società ovviamente anch'essa statunitense che è specializzata nelle telecomunicazioni senza fili che ovviamente secondo me sono il futuro è specializzata infatti anche nel 5G ed è per quello che penso che nei prossimi 2-3 anni possa anch'essa salire veramente molto l'ultima società nella quale ho investito è Credit Swiss Group che è una società svizzera che opera nel servizio finanziario è nata veramente molti, dico molti anni fa infatti è nata nel 1856 e da sede a Zurigo opera però in tutto il mondo opera in più di 50 nazioni ora vi vorrei far vedere l'altra sezione quella dei rendimenti questa qua è la sezione in cui vi faccio vedere allora facciamo così diminuiamo un pelo e vi faccio vedere la differenza del prezzo d'acquisto tra il 31-12 che è questo qua che potete vedere qua in fondo e il prezzo alla quale l'ho acquisata io ho scelto 31-12 perché è stato prima del coronavirus quindi è uno dei primi giorni nella quale non ha avuto effetto il coronavirus questo perché l'ho fatto? perché volevo vedere quanto avrei pagato le stesse azioni se le avessi acquistate circa 4 mesi fa e come potete vedere essendo che io qua ho messo in alto come potete vedere ho messo il totale di quante le ho acquistate e quante azioni ho fatto il calcolo infatti se vedete 78,05 per 3 fa 234 ovviamente questi qua sono tutti i prezzi in euro in realtà li ho acquistati in dollari però ho fatto la conversione in euro ovviamente la conversione varia tutti i giorni però non è che posso farci tanto questi qua sono i prezzi al 31-12 e questi qua sono il prezzo a quando lo acquistate io potete vedere che se io avessi acquistato le stesse azioni la stessa quantità al 31-12 anziché in questi giorni l'avrei pagato circa circa 520 euro in più circa che su un importo di 1200 è tantissimo cioè è veramente tanto come potete vedere qua ho selezionato ho messo l'ultimo dividendo anche se sicuramente nel 2020 molte società taglieranno i dividendi ovviamente perché nel momento in cui diminuisce drasticamente l'utile non è che puoi pensare che il dividendo rimanga uguale io ho messo io ho semplicemente messo l'ultimo dividendo che hanno rilasciato per avere una minima idea in realtà poi nel momento in cui staccheranno i dividendi io aggiornerò questa pagina per vedere il rendimento reale come potete vedere ho fatto tutti i calcoli anche considerando le imposte sia alla fonte e sia poi nel paese dove abito quindi ho messo ad esempio qua la prima tazza del 15% sul dividendo americano e poi il 26% dell'85% del dividendo perché siamo in Italia ad esempio in Svizzera l'imposta del 35% alla fonte quindi paghi prima il 35% e poi paghi il 26% del 65% come potete vedere ho il totale di dividendi che dovrei prendere durante l'anno e poi il netto così ho sempre tutto aggiornato poi qua ho messo anche una media per avere un po' più di consapevolezza io credo che nel medio-lungo termine tutte queste società che ho comprato possano tornare e dico possano perché non ho la certezza assoluta possano tornare al valore che avevano al 30-12-2019 quindi penso che nel 2021-2022 possano tornare a quel valore lì e poi anche salire ma il mio discorso è più un discorso di dividendi io ho cercato di acquisire azioni in società che avessero dei dividendi perché voi puoi avere una rendita passiva non voglio stare tanto a fare compra vendita di titoli quindi niente questo era un po' il mio portafoglio se avete piacere di condividere anche un po' il vostro se magari avete fatto anche dei video fatemi una sapere questione nei commenti io passo a vederveli giusto per avere un'idea ho deciso un'altra cosa di non investire nel mercato italiano perché penso che sia molto fragile ora e penso che il governo non sia all'altezza per ora e quindi niente raga io vi lascio alle conclusioni che farò non davanti al computer ma davanti alla fotocamera quindi ci ricchiamo tra poco ok ora che avete visto sul mio computer tutti i miei investimenti quindi avete la possibilità di sfottermi nel momento in cui crollerà tutto voglio giungere a una conclusione cercate di non farvi prendere delle emozioni cioè non prendetevi bene se nel momento in cui state guardando il vostro portafoglio è salito di tanto e non prendetevi malissimo se il portafoglio è sceso di tanto cioè se voi credete nell'investimento che fate attendete ovviamente coscienziosamente attendete che la società faccia il suo corso cioè se credete in quella società in quel settore lì non fatevi prendere dal panico e non è che dovete spaventarvi a vendere subito il momento in cui scende anzi se credete tanto in quella azienda lì reinvestitegli reinvestitegli sopra cioè nel senso se comprate 5 azioni a 30 e credete molto in quell'azienda in quel settore lì e poi vedete che quella determinazione lì scende a 25 cercate di mediare compratele ancora 1 o 2 così fate scendere il prezzo medio e avete la possibilità di guadagnarci un pelo di più nel futuro poi è ovvio che 6 mesi scendere non sale più quel punto lì ciao bello però se credete non dovete farvi prendere dal panico e non dovete farvi prendere dall'entusiasmo nel momento in cui le cose vanno bene perché il mercato azionario è molto molto volatile cercate di moderare le vostre emozioni concludo dicendo sempre mette un po' le mani avanti ripeto sempre io non sono un consulente finanziario quindi tutto ciò che ho detto prendetelo come uno spunto vi chiedo anche cortesemente di lasciarmi qua sotto nei commenti qualche vostra società nella quale credete molto qualche vostro spunto se avete piacere anche di farmi sapere le vostre percentuali di portafoglio io vi dico già che per ora ho visto su queste azioni qua ma poi successivamente investirò anche in qualche etf e qualche altra azione ma lo farò in futuro tra qualche settimana monitoro ancora un po' il mercato e poi ci risentiamo magari farò anche qualche altro video raga in conclusione spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like un commentino e niente raga speriamo che vada tutto bene ciao 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 ciao